In una Berlino assediata dall'Armata Rossa nel 1945, Hitler nel suo bunker insieme ai suoi generali spostava le divisioni da un fronte all'altro. Questa è l'attuale situazione del nostro governo. Alcuni portavoce la mattina hanno il coraggio o l'incoscienza di dire che va tutto bene, non c'è alcun problema. Saccone ha fatto una dichiarazione in merito, segue Gasparri e tanti altri. Ecco la Berlino del 1945. Ed inoltre stamattina il giornale che fu fondato, lo ripeto per l'ennesima volta, da Montanelli e si sta rovesciando, arrotolando nella tomba, povero uomo, titola Tradimento notturno. Perché? Perché alcuni dei deputati del PDL hanno detto che non voteranno più la fiducia e sono pronti a allearsi col nemico. E sono dei traditori. Quando il 14 dicembre dell'anno passato alcuni disgraziati sono passati dall'Udc e dal Di Pietro, sono passati nel PDL, erano degli eroi. La strana concetto della democrazia è la relatività del pelatino che è, io dico, il direttore brachicefalo del giornale. A bietto.